Ciao ragazzi dalla vostra Cobra, ci siamo appunto per parlare della grandissima partita Ascoli-Perugia 1-4, incredibile, cioè andavamo quasi per perdere contro il Fano e adesso ci troviamo appunto a godere di una partita di Coppa Italia 1-4. Mamma mia, mamma mia, che emozioni, questo è segnare la storia, questo è comunque godersi il calcio a 360 gradi, ti fa questo, ti fa questo, stai quasi per perdere con il Fano e vai a stravincere, non vincere, stravincere 1-4 contro l'Ascoli. Ragazzi questa cosa è veramente dell'incredibile, dell'incredibile e ci va a segnare Lunghi, ci va a segnare Murano, che io comunque mi fidavo di Murano, ma mi va a segnare anche Rosi ragazzi, sorprendente, segna anche Rosi. Mamma mia, tanta roba, tanta roba, poi va bene, l'Ascoli si va a fare il golletto della bandiera, ma però ragazzi non c'era storia, però ragazzi siamo chi siamo. E quindi questo mi attesta che comunque sia noi vogliamo, noi vogliamo è che non vogliamo, è quello il problema, la cosa che mi fa incazzare a me, sì ho detto una parolaccia, incazzare, è che comunque noi possiamo, noi possiamo. E noi possiamo fare il culo a tutte le squadre che comunque giocano nella serie C. Ragazzi noi non siamo sotto a nessuno e possiamo tranquillamente ritornare in serie B senza fare sforzi ragazzi. Senza fare sforzi perché se giochiamo così, se giochiamo così non ce n'è per nessuno ragazzi e se continuiamo così non si arriva nemmeno ai playoff, ci andiamo direttamente, ci andiamo direttamente. Quindi ragazzi dobbiamo crederci, devono crederci anche i ragazzi, addirittura ci ha segnato anche Dragomir, tra l'altro, Dragomir. Quindi ragazzi dobbiamo crederci a priori perché noi abbiamo veramente del potenziale e possiamo tornare subito in serie B.